Ambulanza! Ambulanza! Papà è caduto dal deltaplano! Qui, ambulanza! Qui! Da questa parte! Cosa? Chi ha bisogno di aiuto? Noi! Noi! Mio papà è caduto dal deltaplano! È importante che tutti noi manteniamo la calma! Diamo un'occhiata! Un cuscino per la testa! Vediamo! Togliamogli il cappello! Papà Pig! Devi respirare! Devi respirare! Andrà tutto bene! Penso che anche mamma Pig abbia bisogno di aiuto! Mamma! Papà! Dottoressa! Fai qualcosa! Dinosauro! Niente panico, bambini! Adesso metto gli occhiali... E prendo l'ostetoscopio per visitarlo! Espira! Inspira! Espira! Inspira! Papà Pig! Ora tu! Espira! Espira! Respira! 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 Mamma Pig! Questo ti aiuterà a calmarti! Tesoro! Tesoro! Svegliati! Calma! Dobbiamo stare calmi! Dottoressa! Dottoressa! Ce la farà! Niente panico! Andrà tutto bene! Ha solo delle piccole fratture! Piccole fratture! Dobbiamo fare una stecca per Papà Pig! Ha un bastone! Anche io! Resisti papà! Appoggiamo il bastone... E lo leghiamo con la benda! Oh! 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 Calmo! Abbi pazienza! Calmo! Oh! Passiamo alla seconda stecca! Oh! Respira! Annusa questa! Respira Papà Pig! Oh! Dove sono? Chi sono? Oh! Non riesco a muovere le gambe! Perché sono steccate! Papà Pig! Non preoccuparti tesoro! Adesso andiamo a casa! Dottoressa! Possiamo andare a casa? Certo! Serve un trasporto speciale per il paziente! Ehi! Arrivo! Arrivo! Guardate la mia elica come gira! Siamo qui! Siamo qui! Arrivo! Caricatelo! Piano! Piano! Piano per favore! Papà! Non preoccuparti! Siamo qui per te! Oh! Sto volando! Niente panico! Sto volando! Bambini! In macchina! Dobbiamo arrivare prima di papà! Oh mamma! Stai attenta! Dobbiamo sbrigarci! Andiamo! Stiamo volando! Papà! Ti vediamo! Posso vedervi anch'io! Andiamo a casa! Presto! Oh! Bambini! Credo che ce l'abbiamo fatta! Sì mamma! Papà non è ancora arrivato! Sono qui miei cari! Papà! 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 Fai attenzione tesoro! Attenzione! Oh! Ce l'ho fatta! Tesoro! Lascia che ti metta a letto! Hai bisogno di riposo! E stai qui? Fermo! Ti portiamo il tè! Bevilo papà! Ti aiuterà a rialzarti in piedi! Oh! Grazie bambini! Grazie tesoro! Cosa farei senza di voi? Cosa farei senza di voi?